Adesso sento questa opinione che i collezionisti non fanno vedere i propri armadi profumati ma io non faccio parte di questi collezionisti e penso che il mio armadio a chi mi segue ormai l'ha imparato a memoria tanto sempre la stessa roba quindi noterete questa modifica, questo cambiamento sono arrivate due nuove mensole un bel po' di profumi nuovi ma per spiegare il motivo di questo arrivo, di questa modifica devo tornare indietro di qualche giorno mi è successa una cosa strana mi ha contattato qui su Instagram una persona con cui ci siamo iscritte un po' di volte che vorrebbe rimanere al 100% anonima, incognito mi ha detto che io nel mio genere sono l'unica e che a lei piacerebbe molto darmi, regalarmi una buona parte della sua collezione di profumi a me e quindi dopo un po' di settimane sono venuta nella città vicino a lei abbiamo passato un po' di tempo insieme e lei mi ha passato i suoi profumi sono qua adesso insieme a voi cerchiamo di sistemarli in questa mensola che ho liberato a voi cerchiamo di sistemare